Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi Generation. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi. Un gruppo di persone ha deciso di creare la Jedi.